Buongiorno amici questo è il resto del carnino tg del 16 marzo lo hanno ammazzato così dice una sensitiva di loiano silvana venturi in relazione al caso di nicola menetti il pensionato scomparso dal 20 febbraio scorso nella zona di monghi d'oro vediamo come è andata vedo dei segnali non la realtà non ho visto il monte delle formiche ma una serie di particolari che si trovano fanno pensare al monte delle formiche silvana venturi è la sensitiva di loiano che ieri mattina ha accompagnato un esercito di carabinieri e volontari a setacciare la montagna che svetta tra le valli dell'idice dell'ozena alla ricerca del corpo di nicola menetti poi risultata purtroppo vana una ventina di giorni fa avevo guardato le foto di quell'uomo sul giornale un giorno chiuso gli occhi e ho visto menetti racconta ovviamente la sensitiva legato che veniva colpito da una persona e buttato giù da un dirupo ricordo anche le fasi della caduta e il corpo finito di fianco a una roccia che sembrava una grotta o una tana dove passava un rivolo d'acqua c'erano foglie un grosso tronco di cui sono iniziate le ricerche una battuta che ha coinvolto 62 persone fra le 9 e le 12 di ieri purtroppo non è approdata nessun risultato per combattere la crisi economica il governo berlusconi vuole rilanciare l'energia atomica e questo è assodato ma a caorso in provincia di piacenza non vogliono una nuova centrale nucleare vediamo il servizio caorso non vuole una nuova centrale nucleare a 25 anni dal referendum che portò alla denuclearizzazione l'impianto piacentino torna alla ribalta con la notizia dell'accordo siglato tra italia e francia di nuovo si sussurra al nome del paese come possibile sede di un nuovo reattore nucleare di terza generazione un'ipotesi decisamente smentita dal sindaco di caorso fabio callore che ha ricordato come il ministro scaiola non intende imporre a nessun territorio gli impianti di produzione nucleare e soprattutto come il procedimento di dismissione della centrale attraverso l'allontanamento delle barri di combustibile e attraverso attività all'interno dell'impianto sia ormai definitivo resta comunque la paura degli abitanti una sottile inquietudine di cui si è fatta portavoce la rappresentante di lega ambiente non posso escludere una preoccupazione che c'è perché il governo non ha ancora indicato i siti ha detto che ci sono 34 siti top secret che non ha ancora indicato e comunque non ha escluso quindi bisogna lavorare anche con le istituzioni della provincia di piacenza perché questo non avvenga e poi vedremo naturalmente ancora cronaca adesso un pensionato 91enne è stato ucciso nel suo letto da un'auto che è penetrata nella casa e lo ha travolto l'incredibile è avvenuto ieri è morto nel sonno mentre era nel suo letto travolto da un'auto impazzita che gli è piombata in casa è una tragedia assurda quella che costata la vita ad un ex agricoltore di conselice hotello tamburini di 91 anni tutto è successo ieri mattina verso le 7 30 mentre nella zona era calata una fitta nebbia un albanese di 22 anni residente a forlia la guida di una volkswagen golf stava percorrendo un lungo rettilineo in via rampina da conselice verso la frazione di chiesa nuova e non si è accorto che in quel punto la strada svolta a sinistra l'auto è andata dritta senza il minimo accenno di frenata non ha trovato né un guardrail né un muretto ad ostacolare la sua corsa prima ha battuto un segnale stradale poi ha divelto la rete di recinzione di una casa distante qualche metro dalla curva infine ha sfondato la porta finestra del garage dell'abitazione che da tempo era stato trasformato in una stanza da letto la golf è entrata nella stanza con una precisione millimetrica quasi come per un colpo di biliardo ha distrutto il vecchio letto matrimoniale riducendolo alla metà ed ha scaraventato l'uomo contro la parete uccidendolo sul colpo torniamo all'economia per parlare di aiuti alle aziende in crisi un milione di euro per nuove imprese con costo a tasso zero e questa l'iniziativa di ascom ed emil banca ascoltiamo il servizio di alessio bertini un milione di euro per creare nuove imprese con finanziamenti a tasso zero ecco la nuova iniziativa promossa da ascom bologna ed emil banca con l'intento di portare in nuova linfa le aziende in un periodo difficile come quello attuale con la minaccia della crisi economica sono poche le imprese che hanno la possibilità di investire e molte sono costrette a chiudere per contrastare questa tendenza negativa ecco che nasce il progetto a sostegno di quelle aziende che hanno intenzione di investire nel settore del commercio e dei servizi un modo per dare il nuovo slancio all'imprenditoria e rimettere in moto l'economia rafforzando il ruolo del capologo emiliano come fulcro della ripresa economica è un messaggio forte per dire continuiamo a crescere continuiamo a inventarci un'attività anche in un momento che presupponerebbe probabilmente un trincerarsi in posizioni più prudenziali ma è necessario che nascono nuove imprese e quindi il finanziamento in questo caso a tasso zero restituibile in tre anni senza garanzie reali credo sia un messaggio forte del quale dobbiamo dare atto anche alla banca perché significa davvero finalmente credere nelle idee credere la buona volontà e non come come si suol dire spesso dare soli soldi a chi li ha già ecco darli anche a chi ha idee vuole e vuole crescere ed eccoci amici allo sport e al bologna calcio una sconfitta pesante quella di torino 4 a 1 sul campo della juventus un bologna che tutto sommato avrebbe meritato un punteggio sicuramente più tenero nei suoi confronti aveva disputato il bologna un ottimo primo tempo andando in gol con una bellissima combinazione in verticale tra divaio e mutarelli con palla sotto la pancia del portiere buffon purtroppo nella ripresa il bologna temperamentoso e aggressivo del primo tempo è sparito per lasciare spazio a una squadra piuttosto mosce di fronte a una juve che invece era grintosa e volitiva in particolare con i suoi uomini giovinco e del piero in attacco sono stati loro la molla della riscossa bianconera insieme anche a jacquinta che ha offerto proprio a giovinco la palla del momentaneo 2 a 1 nel finale del piero poi ha pensato ad ingrossare il bottino da parte della juventus è un bologna che ritorna ridimensionato da torino ogni volta che la squadra di miailovic pensa di avere fatto un salto di qualità come è successo dopo il 3 a 0 con la sampdoria si ritrova a fare i conti con una dimensione tecnica che non le permette di stare al passo con le grandi e questo il tasto al quale deve fare molta attenzione il tecnico serbo anche perché il bologna del secondo tempo ha avuto un calo fisico mentre il calo fisico si presumiva dovesse avere la juventus che aveva disputato l'impegno di coppa al di là di questo la squadra è rimasta ben strutturata soprattutto mi riferisco a quella del primo tempo e questa è la strada da continuare a battere ci sono delle cifre inquietanti comunque con 46 gol al passivo in 27 partite il bologna è la squadra che ha la difesa più debole del campionato è vero però che 13 di questi gol sono stati subiti in sole tre gare contro cagliari milan e juventus problemi difensivi si porranno anche nella partita di domenica prossima alle 15 al dall'ara contro il cagliari per le squalifiche di terzi e di zenoni e per l'infortunio che è occorso a britos del quale si deve ancora valutare la gravità sulle fasce dovrebbero giocare in difesa belleri e lanna e al centro è probabile l'accoppiata a questo punto tra castellini e moras specie se britos non dovesse recuperare di certo è un bologna che deve ritrovare compattezza modestia e anche spingere un po di più sull'acceleratore dal punto di vista fisico anche attraverso una serie di staffette come puntualmente miajlovic sta facendo per conservare smalto e lucidità fino al novantesimo comunque passato lo scoglio di cagliari il calendario dovrebbe diventare finalmente più favorevole per il bologna e dunque aiutarlo in questa rincorsa alla salvezza finisce a qui amici il resto del carino tg del 16 marzo arrivederci a domani